Voglio sentire su questa partita il vice direttore del Sole 24 Ore. Alberto. Ma diciamo che come è stato detto prima, la cosa importante è ottenere questa proroga dalle regole europee, sostanzialmente, dalla BCE, dalla vigilanza. Probabilmente sì, è lecito essere ottimisti e quello che conterà dopo è non sprecare il tempo della proroga ottenuta, naturalmente, cercando, è chiaro, di rendere possibile il matrimonio con MPS, ripulendo ancora di più la banca, gestendo gli esuberi. Scusa Alberto, perché mi veniva in mente una cosa, tu dicevi, non sprecare l'anno eventualmente di proroga, perché poi in questo anno, questo torno anche al tuo libro, succedono molte cose, perché l'elezione del nuovo Capo dello Stato non è questione di poco conto, ovviamente, perché non sappiamo cosa succederà, bisogna vedere chi andrà al colle, cosa succederà, bisogna capire le fibrillazioni delle forze politiche, non dimentichiamoci che nel 23 scade comunque la legislatura, quindi è un anno, diciamo, che potrebbe riservare molte sorprese, no Alberto, in questo senso? Beh, dubbiamente è un anno molto denso, sì, chiaramente ci sono questi avvicendamenti al Quirinale, che potrebbero avere impatti anche sui avvicendamenti del governo, ora vedremo quale sarà lo scenario, ci sarà un anno importante perché si metteranno le basi per rinegoziare le regole del Patto di Stabilità Europeo, che non è una banalità per niente, che significa condizionare anche la retorica narrativa, ma anche poi le scelte di politica economica, del Paese per i prossimi 20 anni, già a loro volta condizionate dalla messa a terra e dall'attuazione del PNRR, del quale siamo i maggiori beneficiari e su cui abbiamo scommesso sostanzialmente il ridisegno dell'Italia dei prossimi 30 anni, nella transizione digitale, nella transizione ecologica, che non sono parole vuote o slogan da convegni, sono azioni che mettono in campo quel classico meccanismo schumpeteriano della distruzione dell'economia, della ricreazione di un'economia nuova, il che significa anche una gestione di un momento che può avere degli aspetti drammatici e degli aspetti anche di grandi potenziali ottimisti per il futuro, ma sicuramente bisogna gestire una crisi, non c'è dubbio.